Ma tu lo sai quanto inquina un mozzicone di sigaretta? I mozziconi che vengono buttati a terra, lanciati dal finestrino o semplicemente lasciati sulle spiagge arrecano un grande danno all'ambiente e all'uomo. I mozziconi sono fatti di acetato di cellulosa, che è una sostanza non biodegradabile ed ogni mozzicone inquina fino a mille litri d'acqua. Andandosi a frammentare, rilascia migliaia di microparticelle e di microplastiche che si disperdono nell'ambiente, si disperdono al mare e vengono mangiati dagli organismi. Questi, attraverso il processo di biomagnification, introducono nella catena alimentare una serie di inquinanti pericolosi per la salute dell'uomo. Quindi ricordati che la spiaggia non è un posacenere.